Dopo la buona scuola dell'anno scorso Renzi lancia Scuole Belle, l'ennesimo annuncio di un Presidente del Consiglio che sa solo raccontare balle agli italiani ma poi di concreto non c'è nulla. In questo provvedimento il nostro Presidente Renzi ci racconta che le nostre scuole le stanno ristrutturando, che le nostre scuole sono scuole all'avanguardia, che le nostre scuole stanno mettendo a disposizione milioni e milioni di euro. Nel frattempo la realtà è ben diversa, sono scuole che cadono a pezzi, l'intonaco dai muri che colpisce molto spesso anche gli alunni, il riscaldamento delle scuole che manca, i genitori costretti molto spesso a mettere nella cartella dei propri figli, nello zaino dei propri figli, oltre al materiale didattico, anche la carta igienica. Queste sono le scuole belle che vede il Presidente del Consiglio. Inoltre l'ennesima fuffa che Renzi ha fatto agli insegnanti dopo quella dell'anno scorso, anche quest'anno ha tirato un bel bidone. Il bidone consiste ancora una volta nel fatto che gli insegnanti precari si ritrovano nelle stesse condizioni di prima. Si ritrovano che persone che hanno insegnato nella scuola per anni e anni oggi si trovano sorpassati da chi la scuola non l'ha mai vista, oppure si trovano costretti a dover fare un concorso alla pari di neolaureati o anche in questo caso persone che non hanno mai insegnato nella scuola. Quindi insegnanti competenti che vengono umiliati dal Presidente Renzi, gli insegnanti delle GAE che vengono penalizzati e tutta una serie di problematiche che Renzi dice di aver risolto ma poi alla fine non li ha risolti. In aula vediamo che il Partito Democratico non è presente, manca il numero legale, chiedono la fiducia. L'ex Presidente Napolitano che critica apertamente il Presidente Renzi e lo critica proprio per la questione dell'annuncite, ebbene sulla scuola ancora una volta non ci siamo. Renzi ha fallito, Renzi sta fallendo e insieme agli insegnanti stiamo organizzando i comitati referendari perché anche gli insegnanti chiedono a Renzi di andare a casa e di conseguenza penso che a ottobre anche dal mondo della scuola Renzi troverà una bella sorpresa.